numero 4 astuccio a 3 scomparti appak realizzato in poliestere prodotto di ottima qualità resistente all'usura all'interno dispone di tutto il necessario per la scuola una penna cancellabile tratto cancellic di colore blu una penna a sfera tratto di colore rosso 18 pennarelli giotto turbo color 18 pastelli colorati color code una matita grafite fila una gomma un temperino un righello trasparente e una forbice con maniglia in plastica idea regalo originale per ogni occasione trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 3 bellissimo astuccio alla moda con chiusura a zip dispone di tre pratici scomparti per avere sempre in ordine tutto l'occorrente per la scuola ottimo prodotto all'interno di questo astuccio troverai una penna cancellabile tratto cancellic blu una penna a sfera tratto di colore rosso 18 pennarelli giotto turbo color 18 pastelli a colori una matita grafite fila una gomma un temperino un righello trasparente e una forbice con maniglia in plastica trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 l'astuccio appak webkins nel suo triplo scomparto contiene tutto ciò che ti occorre per la scuola penne matite colori e altro ancora in particolare all'interno sono presenti una penna cancellabile tratto cancellic blu una penna rossa una matita lira temagraf una gomma un temperino un righello una forbice 18 pastelli giotto laccati 18 pennarelli giotto turbo color ottimo articolo dispone di una pratica chiusura con cerniera trovi il link di questo articolo in descrizione numero 1 ottimo rapporto qualità prezzo per questo astuccio offre un'ottima organizzazione interna grazie a tre scomparti suddivisi che consentono di mantenere tutto in ordine dispone di una pratica chiusura a zip all'interno sono presenti una penna cancellabile tratto cancellic blu una penna a sfera di colore rosso 18 pennarelli giotto turbo color 18 pastelli a colori una matita grafite fila una gomma un temperino un righello trasparente una forbice con maniglia in plastica se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione a presto a presto